Scena Victor, che poi sarei io, prima. Sì, se svengo già l'appoggio. Eccoci qua, tolgo le cuffie, tanto non fa freddo. Certo, accomodati. Innanzitutto assaggiamo il nostro cocktail. Non avevo mai bevuto quel basilico. È molto buono. Allora, ti volevo chiedere, ma chi è Victor Quadrelli? Victor Quadrelli è per molti un artista, cioè la parte pubblica. Però Victor Quadrelli è un ragazzo che è stato adottato, perché io sono colombiano, e ha avuto vari traumi di vita, tanti che formano come tutti noi. Noi siamo quello che incontriamo, siamo la somma di quelli che abbiamo conosciuto. Victor Quadrelli è un ibrido, perché poi in più c'è il fatto che faccio le imitazioni. E questa cosa sembra, ma in realtà, a forza di interpretare una personalità, entri a farne un po' parte. Infatti io sono un po' fantozzi. Sbaglio i treni, inciampo. Adesso non sempre, perché se no sarei un deficiente. Però spesso. Non lo so, diciamo che mi sto conoscendo solo adesso, perché ho dato tanto di me agli altri. Non è vittimismo, ma è realtà. Quindi adesso mi sto conoscendo un po'. Ho una passione per l'arte, ho una passione per la comicità, e beh, per il cibo penso che si veda, dalle scarpe. Però mi sto conoscendo adesso, è troppo presto, per dirti proprio chi è Victor Quadrelli. Un appassionato di arte e forse una persona un po' troppo buona a volte. Sì. Sei molto ironico, quindi immagino che la comicità in un certo senso faccia parte proprio di te. Sì, 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 sì. Io purtroppo, anzi, beh, molto, fa molto parte dei comici. Tipo anche a un funerale ti viene in mente la battuta in certe situazioni, quindi te la tieni per te, però sì, il cinismo, cioè. Beh, quando è nato il tuo amore per la comicità, per l'arte? Allora, il mio amore per la comicità è nato a scuola, perché non andavo bene a scuola, perché quando tornavo a casa guardavo spesso film comici e pensavo anch'io un domani vorrei essere lì e far ridere gli altri, che ne so. Ed è nato in realtà per la passione, più che altro per il cinema, perché io non vedevo l'ora che un insegnante a scuola non ci fosse o ci fosse un imprevisto perché sapevo che arrivava il supplente e poteva mettere il film. E mi sono accorto che quando facevo vedere un film che ovviamente non era mio, tipo Il professore Matto, tipo qualcosa di Jim Carrey, ridevo nei miei compagni, mi faceva piacere perché il film l'avevo scelto io. Quindi già questo è una cosa, in più poi arrivi a pensare appunto voglio scrivere io una cosa mia che faccia ridere le persone come quel film, come quello, insomma questo è. Ma la passione in realtà per la comicità è arrivata la prima volta a cinque anni, con Paolo Villaggio, perché ho visto un suo film che era Fracchia contro Dracula e poi ne ho visto un altro pezzettino dei pompieri mi sembra. E da lì ho detto io devo vedere tutti i film di questo bambino con i capelli grigi, perché Villaggio comunque per i bambini è un bambino con i capelli grigi, goffo, solo poi crescendo vedi altri aspetti. Cinque anni insomma. Sì io sono un po' come Marzullo, mi fai una domanda e quarto d'ora. E cosa ne pensavano i tuoi amici, i tuoi parenti di questo tuo talento innato per la comicità e per l'arte? Ma gli amici si divertivano anche perché comunque adesso io ho 32 anni e l'imitazione di Villaggio piace, però vedere un bambino che la fa ovviamente fa più affetto. No, da parte dei parenti non ho mai avuto, parenti adottivi tra l'altro, no, non ho mai avuto un appoggio in particolare, su tutto. Ho deciso di fare questa cosa? Ok. Faccio la voce di Paolo Villaggio? Sì è vero, ci assomiglia, bravo. Cioè questo era l'entusiasmo massimo. E la famiglia adottiva non la sento da tempo, perché sono stato cacciato di casa nel 2017, proprio perché ho scelto di fare il comico e secondo loro io infangavo una famiglia con questa cosa, il giullare di corte eccetera. In un certo senso non ti hanno accettato, non ti hanno visto, tu hai sempre voluto farti vedere in un certo senso per la tua passione, emergere attraverso la tua passione. Io penso che a prescindere da quello che magari sia il mio volere, cioè farmi vedere o meno, penso che semplicemente non puoi adottare un figlio e poi soprattutto cacciarlo per una motivazione come questa, perché non è che io ho spacciato, sono un criminale o chissà cosa, il cabaret. Quindi dire io ti caccio perché non posso, non ne posso più di andare al centro commerciale e sentirmi dire ho visto tuo figlio a teatro, ho visto questo, parte secondo me una cosa stupida di cui vergognarsi. In più devi prenderti le tue responsabilità, quindi se uno vuole adottare un figlio, cosa che nella fine degli anni 80, quando è successo a me, inizio anni 90, era già difficile, ma lo è ancora, bisogna pensarci un po'. Hai in mano in un certo senso fino a un certo punto il futuro di una persona e la base, perché io il mio futuro me lo scelgo io, non sono loro a scegliere in quale mi esibirò di locale domani o dopodomani o se fare questa intervista o meno, questo è vero, ma dei miei comportamenti purtroppo ne sono responsabili nella mia crescita. Dato che hai parlato tu di adozione, volevo chiederti, hai cercato in qualche modo di riprendere i contatti con la tua famiglia biologica, avendo avuto questo strappo con la tua famiglia adottiva, hai ricercato in qualche modo un collegamento alle tue origini? Sì, un po' per un po' di tempo sì, però c'è stata così tanta confusione che dopo un po', sai quando dici, andate al diavolo tutti, ti alzi e te ne vai? Perché io ho un ricordo molto preciso, poi chi mi segue sa che io non è che abbia molte cose da nascondere, dico forse anche troppo, però lo dico. Quando avevo sei anni, me lo ricorderò sempre, nel 1996 chiesi di mia spontanea volontà a mia madre, dissi, ma io sono stato adottato e vedi subito mio padre che smise di masticare, come per dire, ecco, siamo nell'argomento, lui dava fastidio quando aprivo sta cosa. E lei invece era più tranquilla, gli ho detto, ma se io sono stato adottato, qual è il mio vero nome? E dov'è mia mamma? Lei fece un tempo a dirmi il mio vero nome, Vittor Alfonso Metaute della Coronia, il resto non lo potete dire, potete si può dire, non so, ecco faccio degli errori fantoziani alle volte, perché lui la massacrò di botte. E lui mi ricordo che disse, guarda, occhio perché non sai chi ci siamo messi in casa, questo è colombiano, un domani, questo scappa, ci lascia e ritorna alle sue origini. Pensiero stupido, ma non del tutto, perché io non so cosa abbia passato lui da piccolo, perché io comunque la mia famiglia non la conosco, so i nomi, ma non è che sappia tanto di loro, quindi anche questo poi la dice lunga. Però non ho certezza sulle mie origini, quindi la voglia c'è, ma ad un certo punto dopo un po' dici no. So di avere una sorella più grande di me, in teoria, detto dai quadrelli, quindi non lo so. Una sorella più grande di me in Francia, e spero che sia vero, spero sia stata più fortunata. So che mia madre è morta di parto, ma non ne ho la prova. So che mio padre è morto qualche mese prima della mia nascita, ma non ne ho la prova. Sono tante cose, quindi per quello anche forse nell'inconscio sono scappato nella comicità, nel voler far ridere, perché comunque io mi ricordo quando parlai una volta con un comico che Massimo Boldi disse, i comici sono tristi, io pensavo, ma non è vero. Ecco, forse adesso un po' sto cominciando a capire. Noi sul palco portiamo comicità, ma è anche un modo per esorcizzare quello che abbiamo dentro, e quando tu scendi da quel palco purtroppo non ci puoi fare nulla. C'è quel quarto d'ora che ti chiedono le foto, chiacchierano i complimenti, ma poi comunque rimarrai di nuovo da solo con quei pensieri, con quelle cose. È una fuga, secondo me, la comicità. Hai ricercato nella comicità la tua persona, il tuo equilibrio. Secondo me l'inconscio, che è un'altra parte. Per quello, chi è Victor Quadrelli, non sapevo rispondere, perché è nell'inconscio che dovrei studiarmi quello. So le mie volontà, ma poi non so l'inconscio, come si muove. E invece chi è stata, magari, la prima persona che ha creduto in te in questo tuo percorso artistico lavorativo? È colui con cui ho cominciato nel 2009, si chiama Amedeo Visconti, è un comico, è un cabarettista molto varietà, molto vintage. Lui è torinese, ma sta in Romagna, e l'ho conosciuto lì a Rimini, dove sono stato adottato. Ho cominciato con lui nel 2009 a fare cabaret, lui già lo faceva dall'82, e ha fondato il laboratorio della risata, che credo non esista più, però eravamo un po' di comici, che appunto, chi era stressato dalla moglie, chi voleva un po' evadere da tutto, cabaret d'evasione, quindi c'era stato questo gruppo di comici emergenti. Io, che sappia io, molti poi sono tornati al proprio lavoro. Sono l'unico pazzo che penso abbia continuato questo percorso. Però sì, Amedeo Visconti, e lo ringrazio sempre, qualsiasi cosa. Cosa ti affascina degli attori degli anni Ottanta, come Banfi e Villaggio? Beh, allora, innanzitutto, c'è una differenza anche fra di loro, perché Banfi è un comico che, sì, ha delle genialità, ma aveva comunque attorno salce, aveva attorno a chi lo aiutava. E per quello che mi riguarda, mi prendo sempre responsabilità di quello che dico, Banfi è un comico leggero, è uno che parla con la E al posto dell'A, ha questa voce simpetica, dicevo, io faccio la versione in vecchietta. Però a Villaggio, invece, è un genio, perché Villaggio, invece, è, a parte che se l'è scritto da solo, ed è uno spaccato di un'Italia, che in realtà sotto sotto esiste ancora, la sottomissione, eccetera. Poi, per quello che riguarda oggi, Fantozzi è un mito, altro che sfigato, posto fisso, ferie pagate, poteva mantenere una famiglia, altro che Fantozzi. Il Fantozzi, che intende Paolo Villaggio, è l'essere sottomessi. Noi nella vita, io perché ho due idoli, Stallone e Villaggio, perché Rocky Balboa e Uco Fantozzi, lo siamo tutti. Abbiamo delle cose in cui siamo Rocky Balboa, ci può dare contro chiunque, ma non ce ne frega niente, altre in cui basta una mezza idea e dire, no, ma forse non lo faccio, perché... Quindi questa cosa farà anche sorridere, ma è una riflessione. E Villaggio ci ha cresciuto a risate e riflessioni. A mio avviso, parlo solo dell'Italia, perché io in questo paese vivo, il resto non lo so, l'italiano si ferma un po' troppo a ridere, non a riflettere. Se io adesso esco da qui, mi vado a Piazzo del Popolo, al Panteo, ovunque, non solo a Roma, becco le prime cento persone che trovo e chiedo cosa pensi di Fantozzi, mi rispondono la babbuina, 92 minuti d'applausi, frittatona di cipolla, eccetera. Uno che ti dica, è un ottimo ritratto spaccato dell'Italia dei tempi, è difficile trovarlo, è molto difficile trovarlo. E questo è anche. Quindi a me piaceva che avessero un messaggio. Non c'è stato più un ritorno generazionale. Io sembro molte volte quei ragazzini, intendo 13-12 anni per ragazzini di oggi, sembro il classico che si lamenta, vabbè, ma anche mio nonno dice che la sua epoca era migliore. È vero. Ma qui c'è un problema di ritorno generazionale. Quando morì Totò, sono sicuro che ci fu molta tristezza perché era un grande. Però avevamo comunque, stavano arrivando Sordi, stavano arrivando Paolo Panelli, Aldo Fabrizi, Gasman. Gente che purtroppo oggi non lo sanno, i giovani di oggi. Non sanno chi sia. Se io esco da qui e dico a un giovane che Vittorio Gasman è uno che ha vinto l'isola dei famosi tre anni fa, mi dice, ah sì, è vero, infatti. Perché poi c'è superficialità, un'altra cosa. Non c'è stato più un ritorno. Totò se ne è andato, arrivavano Sordi, eccetera. Poi dopo Villaggio, Gasman, Tognazzi, Poi pian piano Verdone, Nuti, Benigni, poi Albanese, Aldo Giovanni e Giacomo, Ale Franz. Adesso non abbiamo più niente, non c'è un ritorno generazionale perché poi c'è il web. TikTok e queste cose dove dico io, come dico sempre, basta un tic e diventi famoso. Toc. Arte Povera, Cabilame, li conosco anche alcuni artisti di questi, ma non sono artisti. Sono persone che portano dei contenuti e ci distraggono. Invece i contenuti che rimangono negli anni. Io non penso che fra 40-50 anni, come è successo per alcuni, verranno ricordati quelli di oggi. Ma non perché siano meglio o peggio, perché una loro decisione è avere un messaggio. Un messaggio si può avere. Quando sei su un palcoscenico, non è che uno dice che bello, che bello sto lavoro, mi dicevano i miei amici le prime volte, perché fai ridere, poi immagino insomma l'ego, non è solo quello. Si ha una cosa che molti non ci fanno caso, si ha una cosa molto rara quando sei su un palco, è della gente che ti ascolta. Molti non ti ascoltano, aspettano il proprio turno per poter parlare. Questa è la differenza. Quindi Banfi mi fa ridere e ha quella spensieratezza e quel messaggio, perché c'è il messaggio in quello che fai, che ci sta. Preferisco villaggio, però di sicuro negli anni Ottanta ognuno Bat Spencer, Tedensil, Verdone, Nuti, ma anche Alvaro Vitali. dico anche perché comunque, però aveva sotto sotto un messaggio. Oggi io questa cosa non la sento più, sento solo casino e ricerca di like con cui non ci fai nulla, perché io ho provato la coppia o a fare la spesa e a dire guardi non ho i soldi però ho 100.000 follower. Questo è. Quindi un mondo fatto di apparenza, di social, di attività ludiche, ma pochissimi momenti di riflessione. Stanno venendo fuori anche poi piattaforme, potrebbe stare sei ore a parlare di questa cosa. Forse è anche vero che è difficile pensare di poter replicare in un certo senso o addirittura superare grandi personaggi nel mondo del cinema, del teatro. Quello è un altro problema che nasce sempre da qui. La gara, il voler replicare o il voler superare. In realtà ognuno deve fare il proprio e qualcuno di sopra e feciale adesso dirà parla proprio lui che parla con la voce di villaggio. Io parlo con la voce di villaggio ma anche di Banfi, Pozzetto, però una cosa sono i tormentoni. È ovvio che se fai Banfi devi dire Madonna dell'incororeta, Pozzetto, ciao belle gioie, tac, oppure come umano lei, queste cose qua. Ma poi in realtà io gli faccio dire quello che voglio io e cerco di, certo con le dovute distanze, eccetera, di pensare a cosa potrebbe dire oggi quel personaggio riguardante soprattutto Fantozzi. Però in realtà devi avere un tuo messaggio, un tuo punto di vista. Oggi la gente non ce l'ha, parla perché sente sente quello che è la massa, ma anche i grandi artisti. Oggi si va troppo di superficialità. se io dico una cosa importante, due o tre diranno ah, bravo però. Però se invece la dice Giovanotti o Frankie ha energy, uno che ha molti follower oppure la famosa spunta blu, allora, però poi non viene capito neanche quello. Perché se noi avessimo capito, almeno, non sto scherzando, il 40%, neanche il 50% dei film che tanto elogiamo, o comunque della musica, dell'arte che ci ha insegnato tanto, non saremo qua e non sto scherzando. Quindi se io ti chiedessi quale tipo di studio c'ha dietro alle tue performance, tu mi risponderesti che è la riflessione, il pensiero? La riflessione. Sì, riguardo le imitazioni non ho mai fatto, non penso che esistano neanche scuole per farlo. È una cosa mia, ascolto la voce, poi boh. Riguardo alla comicità, andavo a vedere molti spettacoli all'inizio. Andavo a vedere gli spettacoli di tutti perché odio dire battute che magari ha un altro. Può succedere che io scrivo una battuta magari legge scritta tu. Ma anche per capire un po' dove andavano a parare. Quindi ho capito che ci sono i comici furbi che magari avrebbero molto da dire ma si accontentano di accontentare il pubblico con delle banalità. Oppure ci sono quelli che i veri comici secondo me sono quelli che devi andare a rivedere perché non hai capito bene il discorso perché siamo abituati troppo a superficialità, eccetera. Imitare e recitare potrebbero essere due armi a doppio taglio. Ma tante, tante. A livello d'arte anche con un disegno puoi fare tanto. solo che puoi decidere tu appunto se quel disegno ha un senso o deve diventare una chiappa like e basta. Tanti like arrivano comunque. La velocità è un guai. Oggi noi con questo telefonino siamo abituati c'è gente che capisce già all'inizio di un video se piace o non piace. Come lo fai a saperlo? Guardalo. No, non mi piace. Vai. Questa velocità purtroppo a mio avviso si rispecchia anche a livello umano. noi in due minuti decidiamo se un amico poi qua a Roma è un gergo amo teso dopo due secondi amo che mi prendi qualcosa? Ci può stare ma in realtà no perché amore comunque è una parola importantissima o anche quello è amico mio ma sai per non di conoscente dillo le parole esistono usiamole perché non si può dire? Le parole hanno un peso. Le parole hanno... Ci sono le parole usiamole lo diceva Nancy Brilli in compagni di scuola dell'88 ma è vero ci sono le parole usiamole quindi anche questa è una confusione a parte poi oggi il linguaggio ci sono tante correnti che io non capisco le rispetto le vedo da lontano ma non le capisco anche sta cosa di voler parlare inglese ah fammi sapere il tuo feedback poi magari dai tuor Marancia manco sa coniugare un verbo capito? ah sì sono con i miei friends una serata molto cool ma te dove sei? scusa dove sei stato ultimamente? Parlando di linguaggio in fondo essendo un comico le parole sono sono i tuoi strumenti pensi che un comico un attore un imitatore un artista debba possa permettersi di poter usare qualsiasi tipo di linguaggio? C'è un limite nella comicità? C'è c'è il limite perché io ho preso ad esempio prendiamo ad esempio Pio Amedeo che secondo me non sono due artisti e per fare l'esempio giusto devo prendere uno che non mi piace che è Checo Zalone che però è un comico non mi piace Checo Zalone però è un grande e riconosco quanto sia bravo la sfortuna di Checo Zalone è che gli sia capitato come tutti i comici più grandi rappresentiamo l'italiano medio si rappresenta l'italiano medio Pozzetto Villaggio adesso c'è Checo Zalone Checo Zalone è bravissimo la sua sfortuna è che deve rappresentare l'italiano medio di oggi che guarda Temptation Island che non gliene frega di quello che succede fuori vuol sapere con chi si è sposata a Belen vuole vedere l'intervento della Cipriani in diretta roba di cui non si fa nulla e Zalone purtroppo ha questa sfortuna però è un genio è un genio però è un artista il problema è che oggi più che mai con il web vengono prese persone che non sono artisti cioè Zalone interpreta un caffone da bar questi e altri sono caffoni da bar che sono piaciuti alla moglie dell'uomo giusto che ormai non è neanche più la moglie dell'uomo giusto è Giusterei a De Filippi non ho mai niente da nascondere di quello che dico quindi secondo me è molto importante quello che tu valuti di dire o meno perché puoi dare puoi svoltare una persona perché secondo in questo ambiente si viene presi molto per egocentrici io parlo di me stesso sono egocentrico invece di fermarsi sul giudizio sull'etichetta che tutti giriamo con queste etichette ad attaccare alla gente no dall'episodio di una persona puoi prendere uno spunto un consiglio per il tuo siamo un po' egoisti invece che ipocriti ascolto quella persona perché dal suo racconto potrei forse prendere spunto per una cosa mia è meglio che invece dire aspetto che finisca di parlare che così lo etichetto devo capire cosa è questo è un'ipocrita? è un superficiale? in tutto poi vabbè no vax si vax bo vax in tutto bisogna sempre volere etichettare 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 noi di questo passo avremo tutte le persone etichettate come le mucche non ci servono a nulla la crescita deve essere insieme ma è anche individuale ma non così non con il nulla non cresci con l'aria fritta secondo me poi si entra troppo in un personaggio prestabilito e tu ti sei trovato in un certo senso incastrato nei tuoi personaggi no solo a livello fisico e umano infantozzi perché capita comunque siamo persone che c'è un giorno che magari non ho voglia e devo dire che si da un anno e mezzo con l'arrivo di tiktok c'è sempre più gente non solo a Roma che mi ferma di continuo per la foto per la storia di instagram quello che fa piacere devo dire che fantozzi su tutti è l'imitazione cioè io faccio tante altre cose il mio spettacolo si chiama non c'è niente da ridere e dura un'ora e mezza un'ora e venti le imitazioni ci saranno un quarto d'ora io quando esco quando sono in giro sono fantozzi ma addirittura una volta la signora mi fece impressione e mi disse possiamo fare una foto perché mio marito impazzisce per fantozzi e lì pensi ma fantozzi vero è Paolo Villaggio io lo sto solo omaggiando sei incastrato da quel punto di vista lì e di riflessione pensavo ma chissà Villaggio cioè se io che sono Victor Quadrelli uno che omaggia Villaggio vengo fermato così figurati lui quindi rimani incastrato da quel punto di vista lì mentalmente invece lo decidi tu ti puoi trovare nella situazione in cui uno mentalmente ti porta su un'altra corrente eccetera ma in realtà devi essere consapevole sempre che sotto sotto è colpa tua perché la gente fa quello che gli lasci fare fondamentalmente è vero fondamentalmente è vero però d'altro canto fanno parte di te questi personaggi li senti ancora tuoi sì diciamo che sento più mio quello che io so di aver inventato se uno mi dice ah ma tu sei quello che fa fantozzi no lo imito e poi ho fatto delle cose che Villaggio non ha potuto fare perché ci ha lasciati poraccio come io con la voce di Villaggio ho parlato di Covid ultimamente ho parlato di Android di Youtube tutti gli argomenti che Villaggio per motivi proprio di epoche non poteva affrontare secondo me non è che mi sto elogiando ma è quello cioè se io fossi lì a dire solo come umano dice vabbè oh l'ha fatto già l'altro cercare un po' anche nella creatività nella creatività questo concetto è stato un po' frainteso forse nella tua intervista a Repubblica che io ho letto ovviamente e volevo sapere se ti andava eventualmente di rimarcare qualche passaggio che non è stato compreso magari dai lettori allora Repubblica che ringrazio più che Repubblica ringrazio sempre Fabio Buttera che non lavora più con Repubblica ma io non ho apprezzato tante cose però poi ci passi sopra però allo stesso tempo dici boh Repubblica sbagliò subito per quello che mi riguarda a livello di titolo per attirare la gente scrisse Victor il suo sogno essere Lino Banfi è col parere dell'attore mai stato il mio sogno essere Lino Banfi semmai Paolo Villaggio io ringrazio Fabio Buttera perché mi ha aiutato molto però Repubblica mi ha aiutato involontariamente nel senso che il loro intento era comunque di fare un servizio che facesse qualcosa perché comunque immagino quanto sia difficile qui in giro me lo disse lui stesso io faccio ormai servizi solo sui gabbiani il traffico tu hai una storia bellissima e io lì per gli volevo dirgli bellissima un corno sto vivendo per strada poi da fuori capisco che posso anche incantare però ecco di sicuro non è il mio sogno diventare Lino Banfi anche se è tra le voci che imito ma questo non vuol dire allora dovrei voler diventare De Sica Boldi Roccato Ferruccio Mendola i miei idoli sono Villaggio Bud Spencer resta allora stop ringrazio Repubblica questa cosa non mi ha portato a niente di concreto quello che si pensi però mi ha sicuramente portato tante lezioni cioè che tramite Repubblica ho avuto molto eco di molti personaggi non solo persone come noi ma persone famose diciamo personaggi conosciuti e mi sono ho imparato grazie da lì in poi ho imparato a prendere molte distanze cioè io magari ho un appuntamento con attori cose mi capita a volte non me ne frega più niente perché sono solo complimenti ho fatto Italia Sgottalent adesso ho avuto la chiamata di vari artisti Corrado Guzzanti grandissimo non sapevo neanche avesse il mio numero però complimenti sì bravo quindi di concreto questo stanca non ho la stessa energia che hanno molti di dire no ma dai stringiamo i denti io vedo alcuni della mia età anche artisti a Roma dai stringiamo i denti dico eh devo ancora prendere di calci mi sa ti stai demoralizzando in un certo senso no 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 io continuerò sempre a fare fantozzi posso diventare anche la mia vita può cambiare di colpo lascio la comicità divento uno dei più bravi pizzaioli di scafati ma villaggio rimarrà sempre nel mio cuore e per quello che io riesco nelle mie corde vocali punto quello non si può cambiare poi il successo in realtà lo raggiungi in altri modi c'è gente che mi dice io ti auguro il successo ma perché la gente pensa che il successo sia essere in un rettangolino che ha il logo di Italia 1 o Rai 2 una cosa grossa io addirittura il mio successo più grande nella mia vita non è stato artistico il mio successo più grande è stata la mia ex fidanzata che è stata una persona che è stata vicina vera la verità io non mi fido di nessuno ma proprio di nessuno perché boh lì sono stato bene quello è stato il mio successo non ah ma chissà se la figlia di villaggio che la conosci bene ti farà fare un film ma magari capiterà boh ma io il mio successo l'ho raggiunto lì qui non ho bisogno di essere un vincente ah beh sai però dopo Italia Sgottale mi aspettavo che facessi subito qualcosa io sto già facendo delle cose per la mia vita quello è il successo quindi quello è l'etichetta e questa è la persona vera l'etichetta bella lasciar perdere molte volte boh eh sai pensavo che conoscendo quell'attore sono andato a vedere il suo film speravo di vederti ho capito ma io con o senza quell'attore sono io quello devi valutare e non sei riuscito a creare delle collaborazioni in questo momento ai progetti futuri sia magari con personaggi relativamente importanti o comunque a livello individuale hai un progetto tuo sì sto ricominciando adesso che pian piano si è calmata la situazione covid a fare degli spettacoli in giro non solo per Roma sto portando in giro il mio spettacolo che si chiama Non c'è niente da ridere dove c'è un po' di tutto ci sono giochi di parole imitazioni situazioni col pubblico monologhi però ho notato anche che piacciono molto gli aneddoti e siccome io comunque al di là che ho vissuto a Roma per strada tre anni che non sono pochi e ho visto tante cose di vita mia diciamo che sì ho vari aneddoti varie cose particolari con o senza personaggi conosciuti e quindi sto preparando un nuovo spettacolo da portare in giro che si chiamerà Memoria Quasi Piena e avrà delle collaborazioni sì ma vocali e una è di Enrico Montesano e per il resto adesso ancora è tutto in forse però sì di sicuro continuare sul web a fare video TikTok eccetera però cominciare anche ad avere il rapporto con la gente voglio cioè una cosa è vedere un commento una reazione di un cuoricino una cosa io mentre parlo voglio vederti se stai sbadigliando se ti diverti questa battuta fa ridere forse questa non fa ridere devo girarla rimettere un attimo le mani in pasta su live tanto su quello che riguarda il web anzi pure troppo quindi quello è sicuramente un progetto e poi sto facendo una cosa dedicata a Paolo Villaggio che si potrà vedere non so ancora dove però dal 30 dicembre di quest'anno perché quest'anno il 30 dicembre saranno 90 anni dalla sua nascita e poi ho delle cose da fare a Napoli non posso dire troppo ma faremo un progetto dedicato a io speriamo che me la cavo con Paolo Villaggio che quest'anno compie 30 anni e dopo Italia Sgottana sono stato contattato da questi bambini che adesso sono più grandi di me sono cresciuti io speriamo che me la cavo anche lì per chiama Paolo Villaggio Lino Vermiulre insomma al cinema d'autore Napoli tante cose da chiudere sto film ci saranno delle belle novità che cosa diresti al Victor di 6-10 anni fa? stai attento ma anche adesso a quello di fra 10 anni di sto passo no direi divertiti perché dunque io 10 anni fa avevo 22 anni divertiti ancora un pochino però continua eccetera ma sicuramente ecco impara cosa che poi dico anche a me stesso adesso impara veramente non solo a dirlo a te stesso ah sì lo faccio impara a razionalizzare perché se no con tutto rispetto parlando dai tutto quello che hai costruito di te a degli autentici pezzi di merda e non mi sembra il caso e in questo momento tu avresti voglia di improvvisare un monologo o una performance? ma allora ce ne sono vari io monologo se dovessi parlare di un monologo serio penso che saremo qua otto giorni perché poi io sono un po' così hai tempo? ma io una cosa che per staccarmi una delle prime cose che scrissi tempo fa per staccarmi dalle imitazioni un po' perché comunque se no diventi solo quello che fa villaggio sei quello che fa Buffy no mi scrissi una cosa che era un gioco di parole erano vari giochi di parole però ecco insomma quello che piace di più è inerente al calcio cioè racconto di essermi lasciato con la fidanzata vedi per questo dico i comici sono tristi io lo racconto ed è successo davvero però chi mi sente sul palco ride non sa che è vero e in maniera comica io direi ecco io non seguo molto il calcio anzi è il calcio che segue me però ecco potrei fare quello calcistico ed era un gioco di parole con tutti i nomi dei calciatori del tipo scusate l'aspetto crespo buonasera ero stesso sui materazzi e dopo tre seghe sono Stankovic ma oggi ho un diavolo per capello perché per colpa di un figo la mia ragazza mi ha mandato a cacca e io ci sono rimasto come un pirlo perché lui era un buffon pure grosso io gli dicevo mutu lui alzava i toni no lei è bella sempre col mascara dietro una collina davanti una giaquinta però l'avezzi 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 saputo prima del suo comportamento pizzarro non avrei stretto alcun pato invece ci sono cascato e to vabbè signori un baggio a Totti e come direbbe Selvchenko io andrei questa l'ho scritta Vieri ma l'ho voluta dire Monji ecco questo io sono un deficiente totale non è che c'è una scuola io improvviso queste cose qua c'erano sui pesci sul mare adesso vabbè bastava quella del calcio però diciamo che Shakespeare da parte mia sarebbe poco credibile forse si aspettano più il giullare di corte il guitto facciamoglielo credere in realtà nonostante no poi molti mi dicono ma perché invece di far villaggio perdone non fai una cosa tua primo spero di fare uno spettacolo dalle tue parti se pensi questo così vedrai che le imitazioni sono un quarto d'ora secondo il mio personaggio sono io sono io che dimentico la valigia devo tornare a Torino dopo lo spettacolo perché lo lasciare là quello sono e quindi lì ci vuole tempo per conoscere una persona non è che poi quindi accorgersi e ricordarsi che questa velocità che abbiamo anche quella in certi casi serve in certi no per quello che può valere ascoltandoti in questi in questi pochi minuti nel tuo monologo io ho visto molto di te e forse anche poco di villaggio poco delle tue di ciò che hai emitato prima questo mi fa piacere cioè nel senso mi fa piacere anche quando vedono villaggio è ovvio il mio idolo però ecco un attimino ricordarsi c'è la persona dietro l'artista soprattutto gli imitatori ma c'è uno studio dietro un artista c'è uno studio attraverso attraverso e dietro qualsiasi professione quindi credo che il tuo villaggio i tuoi tra virgolette miti siano stati per te fonte di ispirazione e di studio però quello che sei è Victor e in quel monologo hai espresso perfettamente la tua personalità a parer mio umile parere grazie la spettatrice grazie grazie la grazia a te ultima domanda che cosa ne pensi di Rdv ma Rdv penso che mi è piaciuto e devo dire la verità a maggior ragione anche perché io passo molte volte da queste parti verrò con con uno spirito diverso quello che posso dire in maniera più sincera come sempre spero di aver presto nuovi progetti nuovi cambiamenti al di là per me che per me soprattutto per me ma anche perché magari avrò cose nuove da raccontarti si può fare un'altra un'altra cosa divertente noi parliamo proprio di racconti di vita quindi eh lì ce ne voglio un camaleonte cambia ogni due minuti a sto punto ci vediamo domani per la prossima imprevista e domani per il prossimo cocktail sì infatti mi sta adesso devo vedere se riesco a alzarmi no scherzo no io non bevo molto però io sono più uno che mangia ecco penso che si veda sono una buona forchetta un buon coltello un buon cucchiaio insomma una persona posata però al di là della battuta che è tristissima io ti fido molto di chi non mangia bene non beve bene no io penso bere non bevo quasi mai però sul mangiare voglio va bene aspetta facciamo un cheers a questo super colloquio è stato un grandissimo piacere anche per me a questo super colloquio a questo super colloquio a questo super colloquio a questo super colloquio è stato un belissimo piacere